Riforma del lavoro, liberalizzazioni, privatizzazioni, tagli alla spesa pubblica, lotta all'evasione fiscale. Datemi tempo e vedrete, è il nuovo slogan con cui il Presidente del Consiglio Mario Monti ha dato inizio alla fase 2 del suo governo. Promesse declinate con aplomba anglosassone nello studiolo di Che Tempo Che Fa, alla Corte di Fabio Fazio. Il Premier, che ha invocato la riduzione delle protezioni delle categorie professionali, ha auspicato un ripristino della cultura delle tasse che vanno pagate, promesso un processo di liberalizzazioni che permetta di affrancare il Paese da un corporativismo che penalizza i giovani nella meritocrazia, non ha però detto assolutamente nulla sull'impressionante numero di imprenditori che stanno chiudendo le loro aziende e che in alcuni casi sono arrivati a togliersi la vita. È stato evasivo sulle banche italiane che, finanziate all'1% della Banca Centrale Europea per 116 miliardi, non stanno ottemperando al compito loro assegnato, cioè di sostenere le imprese. Non ha detto come ed eventualmente dove intende trovare le risorse per la riforma del mercato del lavoro, al cui appello mancano 70 miliardi di copertura per garantire, in cambio della rimodulazione dell'articolo 18, la certezza di un salario biennale per chi eventualmente fosse licenziato dalla propria azienda, nel quadro di quello che viene definito il pacchetto Echino. Così come nulla ha detto degli operai della Fincantieri o di quelli delle Ferrovie dello Stato, che si sono arrampicati sui tralicci della stazione centrale di Milano per chiedere rispetto della loro dignità e tutele per il loro salario. Malgrado l'ottimismo, i numeri dicono che le nostre banche sul mercato si stanno depreciando. Oggi i tonfi in borsa sono stati ripetuti con unicredit di nuovo sotto pressione, sospesa per eccesso di ribasso più volte. Lo spread tra i BTP e i Bund tedeschi è di nuovo oltre 530 punti. PDL e PD continuano ad appoggiare il governo, malgrado alcuni mal di pancia. La Lega invece prosegue sulla linea della rottura e della dissociazione dall'azione di questo governo. Per ora si tratta solo di annunci, ha detto oggi Roberto Maroni, che ha aggiunto che il Carroccio voterà sì alla richiesta di arresto del parlamentare del PDL Nicola Cosentino, domani in giunta e mercoledì alla Camera, avanzata dalla magistratura campana.